Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Oggi venerdì meditiamo il Vangelo di San Luca, capitolo 9, versetti 19 a 22. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discipoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda. Le folle, chi dicono che io sia? Essi risposero, Giovanni Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro, ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose, il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli assiani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore. Bene, cari fratelli e sorelle, dopo della predicazione del Vangelo e dei miracoli compiuti, Gesù vuole sapere cosa dicono le folle di Lui. A questa domanda i discipoli rispondono subito. Anche da noi sembra facile dare una risposta a questa domanda perché raccontare cosa fanno, dicono, pensano gli altri e fa parte del nostro bagaglio dialogico. Nel parlare siamo molto più orientati a dire la vita degli altri che la nostra. Ma Gesù allora fa come maestro e pone la stessa domanda ai Suoi discepoli. Voi chi dite che io sia? A questa domanda i discipoli sono rimasti molti tranne uno, Pietro, che istintivamente risponde, tu sei Cristo di Dio. Cari fratelli e sorelle, il Signore desidera sapere il rivelo della nostra conoscenza, della nostra conoscenza del Maestro, del Salvatore. E ogni giorno Lui ripete questa domanda, voi che cercate, mi cercate ogni giorno, voi che siete con me, voi che mi invocate nella celebrazione eucaristica, che dite chi io sia? Chi sono io per te? Allora, cari fratelli e sorelle, non importa cosa dicono gli altri, cosa mi abbiano insegnato, ma il nostro rapporto personale con il Signore è questo momento importante e determinante. Perciò in questa giornata chiediamo al Signore, dammi la forza al Signore di rispondere, dammi la gioia di scoprire come Pietro, che tu sei il Cristo di Dio vivente e il Salvatore. Buona giornata a tutti, cari fratelli.